ebbene sì lo hanno rifatto aufero laser 2 gli ho già recensito l'aufero laser 1 che ha avuto un enorme successo lo avete ordinato in tantissimi e tutti per fortuna vi siete trovati benissimo questa conferma che quando vi faccio vedere uno strumento è vero che funziona questo appunto è l'aufero laser 2 l'evoluzione del laser 1 infatti una dimensione di un'area di incisione molto più grande 39 per 39 ed è possibile acquistarlo con diversi moduli laser quindi potete risparmiare nell'acquisto scegliendo il modulo laser più adatto alle vostre esigenze questo riesce a tagliare il legno riesce ad incidere tutte le superfici che si possono incidere con laser diodo e riesce anche ad incidere sull'acciaio adesso vi farò vedere ho inciso un logo di 9 mm con una precisione disarmante sulla lama di un coltellino un incisore laser fatto davvero bene considerate che aufero proviene da ortur è una sorta marca della ortur conservando le stesse qualità lo stesso prestigio del marchio ortur quindi adesso mettiamoci sul bancone guardiamo come lavora ma prima voglio ricordarvi che sono in corso delle promozioni ora di preciso per queste promozioni non posso pronunciarmi tantissimo perché il video doveva uscire tantissimi giorni prima ho rinviato rinviato quindi qualcosa potrebbe essere cambiato nelle promozioni però erano previsti degli sconti con percentuali molto alte e dei regali per i primi ordini ricevuti i primi tre ordini di ogni giorno infatti riceveranno il rullo rullo rotante che permette di incidere sulle superfici cilindriche invece i successivi fino al sesto mi pare possono ricevere in omaggio il regolatore di altezza dell'asse z ma adesso guardiamo questo incisore laser farò un video veloce di un unboxing anche il video del montaggio fatto molto velocemente ma soprattutto farò vedere quello che sono riuscito ad ottenere quindi tagli sulla pelle i tagli sul legno le incisioni sul metallo su una matita incisioni addirittura piccolissime e anche sul legno con una precisione fotografica iniziamo digitale No, utopia Darling, I'm just so fed up With these expectations They keep weighing me down My heart is begging me To get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down For a minute and pretend Honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10 Whoa, whoa, and if I say it ain't enough It's getting drained in my head And I start to see Honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Whoa, honey, I'm a perfect 10 Honey, I'm a perfect 10 Yeah, I'm disgusted with myself And I'm disgusted with the way We're told to have a certain face A certain weight before us We are in pixels on a screen No, we're human We breathe every single thing we see Curating Adorated These expectations They keep weighing me down My heart is E allora ragazzi abbiamo visto quindi il video dell'unboxing e del montaggio Adesso guardiamo la struttura Come vedete è tutta in alluminio ben rifinita Mi piace, è facilissima da montare come avete visto Ci sono incise queste scale centimetrate Che ci permettono di orientare il pezzo molto più comodamente E come potete vedere non si vedono le cinghie per lo scorrimento Perché è un sistema molto particolare che nasconde il tutto E questo rende più facile anche il montaggio Allora guardiamo direttamente il modulo laser In questo caso troviamo un L2U4 Short Focus È possibile però anche ordinarla con il modello Long Focus Che consente anche di montare un accessorio Che ci permette di sfruttare l'Air Assist Ma anche con il modulo laser L2U2 Che ci permette di ottenere delle incisioni con meno potenza Ma con un dettaglio molto maggiore Questi al centro sono alcuni dei lavori che ho eseguito in questi giorni Adesso li guarderemo per bene Da questa parte abbiamo i motori Un motore a destra ed un motore a sinistra E un altro motore per quanto riguarda lo sfostamento del modulo laser Come vedete tutte le connessioni Anche se non sono ordinatissime Comunque non intralciano Perché hanno studiato un sistema Che ci permette di bloccare con delle fascette il cavo nella parte posteriore Quest'altro cablaggio passa lateralmente Quindi non dà assolutamente fastidio Adesso guardiamo invece il pannellino di controllo Troviamo ovviamente l'ingresso per l'alimentazione L'ingresso per la connessione USB Che serve per connettere un eventuale controller Da acquistare separatamente E da questa parte troviamo altri spinotti Che ci consentiranno eventualmente Di collegare eventuali accessori Da acquistare sempre successivamente E poterli utilizzare durante le incisioni E come vi ho fatto vedere durante la fase di montaggio Nella parte bassa troviamo anche dei sistemi Che ci permettono di tensionare correttamente la cinghia Quindi basterà girare una rotellina per tensionare il tutto E avere uno scorrimento ideale All'interno del pannello di controllo troviamo una scheda madre di nona generazione a 32 bit Con un firmware della serie Ortur Laser 1.8 Che permette di raggiungere una velocità di ben 10.000 mm al minuto E ovviamente vi ricordo che in base al modulo laser che utilizzerete La velocità deve essere proporzionata alla potenza che imposterete Tra avere accessori in donazioni quindi sarà possibile acquistare Sia il sistema per il sollevamento dell'asse Z Un controller da collegare alla centralina Il rullo per poter incidere eventuali oggetti cilindrici E prossimamente sarà disponibile anche un box Per poter creare appunto un laser box Quindi evitare di inalare i fumi e avere il tutto protetto Ma parliamo dei sistemi di sicurezza integrati su questo incisore laser Ha un sensore G che interrompe automaticamente la stampa Nel caso in cui dovessimo sollevarlo da un lato Oppure se dovessimo spostarlo con violenza La stessa cosa accadrebbe nel caso in cui dovesse disconnettersi La connessione USB dal PC Oppure nel caso in cui per un motivo qualunque Il nostro incisore laser dovesse bloccarsi su una posizione Sappiamo che se rimane a lungo su una posizione Potrebbe provocare un incendio Quindi in automatico si interromperebbe E poi anche dei sistemi di protezione della macchina stessa Quindi nel caso in cui dovesse esserci una sovracorrente Oppure nel caso in cui la fornitura di corrente dovesse risultare anomala Quindi se dovessimo sbagliare per esempio l'alimentatore Utilizzarne un altro eccetera Ma bando alle ciance vediamo subito cosa sono riuscito ad ottenere Allora innanzitutto voglio fare il romanticone Tutti vanno in spiaggia a fare le foto con fidanzate, mogli, figli Il proprio cane Io invece ho fatto una foto con il mio drone Avevo questo screenshot nel telefonino Mi è piaciuto e ho deciso quindi di stamparlo Quindi guardate che risoluzione Praticamente fotografica Si vedono le eliche del drone Tutti i dettagli Anche i capelli sparati verso l'alto I peni della barba tutto è stato inciso nei minimi dettagli Pure la marca degli occhiali Insomma ragazzi davvero molto molto definito Ma questa è una foto ricavata da uno screenshot Quindi un fermo immagine di un video Guardiamo invece una foto stampata In alta risoluzione Anche questo in realtà è un fermo immagine Quindi uno screenshot realizzato al computer Perché l'immagine come potete vedere era a pagamento Però guardate quale qualità sono riuscito ad ottenere Comunque è un'immagine di una risoluzione elevatissima E guardate tutti i dettagli stampati a meraviglia Davvero ottimo Ovviamente di tutti questi file che ho stampato Vedrete comunque dei timelapse e alcune riprese dettagliate Quindi mettiamo direttamente intanto i timelapse di queste due incisioni Sia questa col drone che questa del girasole Perfetto E guardate con loatro Is there even such a thing? Oh And we switch up all the rules And imagine a utopia Darling I'm just so fed up ok ok lo so non è bellissimo una fotografia in cui si sorride bianche nero con un fiore sopra ma ho avuto questa pessima idea allora successivamente ho deciso di stampare il mio nome su una matita allora in questo caso abbondato un pochettino con la potenza infatti si è scavato leggermente come vedete c'è un poco di bruciatura però comunque l'incisione è venuta perfetta molto nitida mi piace davvero tantissimo se avessi impostato una potenza leggermente minore sarebbe venuto inciso perfettamente a regola d'arte quindi mi piace davvero molto molto dettagliato dopo ho deciso anche di fare alcune prove di taglio allora questi sono ovviamente i cerchietti che si formano quindi gli scarti della lavorazione e questo è il compensato da 3 mm che sono riuscito a tagliare allora come vedete ho fatto diverse prove nella parte posteriore vedrete dei segni che non sono bruciature la bruciatura quando si forma solitamente è sulla parte superiore quindi quella che state vedendo adesso siccome era a contatto con una superficie metallica tutti i liquidi che si sono sprigionati dalla bruciatura del legno hanno formato queste macchie nella parte posteriore ho iniziato con una velocità di 500 mm al minuto con una potenza dell'80 per cento e non sono riuscito assolutamente a tagliare questo pezzo di legno però ho provato poi a ridurre di 100 mm al minuto per ogni volta e guardate già dalla seconda quindi 400 mm al minuto ero quasi riuscito ad ottenere un taglio per non spostare il tutto quindi per riuscire ad allineare bene questi cerchi e non accavallarli non ho tolto il pezzo da sotto l'incisore e ho continuato diminuendo la velocità quindi 300 200 e 100 mm al minuto ovviamente riuscito a tagliare senza alcun problema quindi a 80 mm al minuto con una potenza dell'80 per cento riusciamo a tagliare con una sola passata senza alcun problema un compensato di 3 mm e osservando lateralmente i tre scarti quindi tra i cerchetti che sono riuscito a ottenere vediamo anche la differenza di bruciatura quindi con una potenza dell'80 per cento una velocità di 300 mm al minuto riusciamo assolutamente a ottenere dei buoni risultati e quindi è deciso di passare a qualcosa di diverso ho provato ad incidere e a tagliare la pelle questo è cuoio ho stampato il logo di harry potter per mia figlia come vedete è stato tagliato di netto senza alcun problema il logo è stato inciso in modo perfetto anche se in questo caso abbondato con il numero di passaggi infatti si è inarcato anche il pezzo quindi ho deciso di riprovare sullo stesso pezzo di pelle e stampare il mio logo e ottenere anche un ritaglio in questo caso modulato tutto molto molto meglio come vedete la precisione è davvero molto elevata guardate il logo quanto è piccolo anche le varie scritte davvero inciso molto bene anche il taglio in questo caso è venuto molto molto meglio ho ridotto la potenza in quel caso era un po esagerato e ovviamente non poteva mancare la prova sull'acciaio infatti ho inciso il mio logo di 9 mm guardate che qualità sono riuscito ad ottenere questo incisore laser incide benissimo anche le cose minuscole stiamo parlando di 9 mm ragazzi guardate le scritte con quale precisione sono state realizzate questo è il coltellino del leader che però non mi piaceva tantissimo con le pognature verdi quindi ho deciso anche di realizzare queste guancette fatte così molto velocemente è stato solo un esperimento per divertirmi ma come vedete sono riuscito sia a incidere questa trama zig zag che ovviamente a ritagliare le stesse guancette devo dire che effettivamente se fossero state smussate insomma se fossero ricevuto un lavoro più degno di questo nome l'effetto sul coltellino sarebbe stato molto molto migliore e poi ho inciso sull'alluminio il mio logo questa volta di un centimetro questo è un alluminio verniciato e sono riuscito anche in questo caso a ottenere il logo inciso perfettamente guardate il mio nome la scritta channel la macchinetta al centro insomma ragazzi tutto fatto davvero benissimo stiamo parlando di una dimensione molto molto ridotta guardate in confronto al mio dito si tratta di un centimetro di logo e una lettera all'interno dello stesso sarà forse un decimo di millimetro quindi davvero molto piccolo inciso con molta precisione e allora ragazzi ho ribaltato la struttura così guardiamo anche la macchina dalla parte inferiore si vedono tutte le cinghie nascoste tutto il cablaggio molto ordinato e questo ci permette di non avere appunto fili in mezzo e cinghie in bella vista guardiamo quindi il modulo laser anche dalla parte bassa cioè questa parte removibile con questi quattro magneti il laser ovviamente viene proiettato dalla parte centrale e questi fori fanno fuoriuscire dell'aria che viene convogliata verso il centro quindi questo accessorio ci permette di utilizzarlo come una sorta di air assist e va montato anche prima di effettuare le incisioni perché utilizzando questo accessorio e mantenendo un'altezza dalla superficie di stampa equivalente allo spessore di questo pezzo di plexiglass arancione avremo la distanza giusta per una messa a fuoco corretta infatti questo modulo laser ha un fuoco fisso quindi significa che per regolare la messa a fuoco dovremo svitare questo pomellino nella parte laterale e dopodiché regolare l'altezza facendolo scorre su un binario e più fortunati che riceveranno il regolatore dell'altezza dell'asse z potranno agire direttamente su una rotella per alzare e abbassare il modulo laser e anche su questo incisore laser è possibile realizzare come ho fatto per l'incisore laser ortur laser master 2 un piano di stampa fisso bloccandolo con questi fori che ci permette di avere un piano martire sempre sulla base infatti ricordate sempre che quando provate a fare dei tagli se non mettete qualcosa sulla parte bassa andrete a incidere inevitabilmente anche la superficie sulla quale appoggiato lo stesso pezzo per poter utilizzare comandare l'incisore laser avrete bisogno ovviamente del computer io utilizzo laser grbl ma è possibile utilizzare anche le bar che ovviamente è a pagamento quindi è consigliato a chi ha intenzione di utilizzarlo con una certa frequenza o comunque bisogno di personalizzare il più possibile le incisioni altrimenti con l'altro software è possibile semplicemente caricare delle immagini in base a delle impostazioni ottenere dei buoni risultati questi li ho ottenuti infatti utilizzando il software gratuito tutto quello che vedete è stato stampato senza l'utilizzo di light bar e durante l'utilizzo degli incisori laser sia per i tagli che per i disegni per le scritte eccetera vi consiglio di utilizzare sempre le protezioni adeguate gli occhialini che trovate in dotazione purtroppo non filtrano non servono granché io vi consiglio assolutamente di acquistare dei filtri che effettivamente funzionino e anche con questo evitate di guardare comunque il punto laser cosa dire ragazzi io spero che questo incisore vi sia piaciuto obiettivamente funziona bene è fatto bene aufero e ortur lo trovate anche nel sito della ortur quindi la qualità la conoscete sapete che sono leader nel mondo degli incisori laser e non solo non mi rimane quindi che invitarvi a cliccare giù nel link per poter vedere le varie promozioni tutti i codici di sconto eccetera invitarvi ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace al video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto grazie